ha raccolto il tratto del ciccione mazza che ha vinto contro il crown and king 3 io sono uscito a cazzo dura bomba bomba luca ponte sono morto ah non è stigli meno male ci sono arrivo sono rimasti due uno lì un altro più a destra è stato io sono morto morto questo questo fate questo please sto un attimo curando eh stava qua che ha spado con uppercut fate un secondo si del sito di bianco mosin ce l'avete un altro secondo ah ok è vicina sicuro eh il problema è che così ci fotta eh ma anche io ne ho più e bruciate vabbè ma questo devo valutare questo ma mi ha due shot sicuro allora uno qua da bruciare che però va a botte in cui infil vandale accetta arrivo pinga se dovete lutare uno di questo ok no lo ho visto a brucia 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 dove erano in ok ma lo vedi nel senso eccola ok diciamolo un attimo in giro un secondo vittata e non c'è non ti salvi un'altra volta già primamente lanciata doveva essere headshot faccio un giro per sicurezza ok dovrebbero stare solamente le taglie fatemi lutare che devo recuperare i secondi eh se non siete one shot si può pure vedere un attimo che fanno questi però vedi un attimo lutà vai gnugna gnugna allora si c'era un toolbox tieni pingato quella francesca me la vengo a lutare no non è lutabile che schifo la so gnugna da io allora non ci credo mamma che gioco di merda te lo giuro che gioco di merda che cosa le armi eh ho scambi ok mamma mia era scomparso il crown compa era scomparso il crown mi ero preso il romero ed era scomparso mi sono fatto grigio ma vale che è riapparso oh sta guai avete lutato tutto io forse loro eh forse loro allora eh c'ho un secondo questi dove stanno oh ce li abbiamo qui eh sono andati po' al carrezzo ma poi andiamo al ranch quali no no nemmeno che forse uno l'avevo già lutato credo adesso è una gran silenziata allora mi mi vado a riprendere attimo il romero no ma stai buono qualmosino è che questi si stanno tenendo a distanza france dici si 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 sono separati più o meno no stanno sempre comunque che cazzo è di là credo uno è vicino ci do la corsa accorto alla camira è giustato faccio il mio giro quello a nord est è da solo lo posso uccidere sto ciccione c'hanno l'esplosiva uno qui occhio al ciccione uno è sopra dove ho fatto scoppiare il barile più a destra rimane uno da butti gg gg vai uuuh ultima raffica va